A me la fantascienza non piace, il mio limite sulla fantascienza è un film che mi ha conquistato, Harry Potter. Mi piace perché c'è un posto che è una scuola per maghi. Guarda che bello andare in una scuola per maghi, è una grande emozione. C'è un posto dove praticamente c'è il gufo che ti porta alla posta, il treno fantasma, i professori che invece insegnarti la matematica così poi tuo padre ti aiuta a fare i compiti e ti ammolla una cinquina, ti insegna invece a far volare le mucche. Sentite come suona, si chiama Hogwarts. Pensa che bello andare in una scuola così. Dove va a scuola? Io vado a Hogwarts. Sentite come suona? Hogwarts. Uno che va a Hogwarts è già avanti, è già pronta ad affrontare il terzo millennio. Dov'è a scuola? Hogwarts. Io non andavo a Hogwarts, io andava all'Ugo Foscolo, quello di Isepolcri. Se eri il primo della classe potevi proprio al massimo aspirare a far Becchino proprio. L'Ugo Foscolo era una tristezza alla scuola mia, veramente. Il mio professore, l'Ugo Foscolo, entrava in classe e la mattina faceva salme. Ai giochi della gioventù c'era l'amacolottiera, Ugo Foscolo davanti e sotto scritti i depressi proprio, ci evitavano. I miei compagni di classe si chiamavano Zega, Scifoni, Chierigoni. Ogni volta li chiama per fare la festicciola e il numero è sempre 5-3, 5-3, 5-3. Però sarei un vigliacco a parlarne male dell'Ugo Foscolo. Sì, certo, non era Hogwarts, non c'erano i treni fantasma, però è lì, è proprio all'Ugo Foscolo che ho conosciuto i miei primi amichetti, gli amichetti quelli degli elementari. Perché guarda che all'elementari, ai compagnucci di scuola, gli volevi bene. Noi all'elementari e all'Ugo Foscolo ci volevamo così bene, ma così bene, tanto da chiamarci tutti quanti per cognome. Quando io ero piccolo tutti ci chiamavamo solamente per cognome, avevamo la sindrome del registro di classe probabilmente, no? Che poi i nomi erano pure facili da ricordare, i nomi nostri erano semplicissimi. I nostri nomi erano Mario, Giovanni, Bruno. Io ricordo che a metà anno è venuto uno in classe che veniva da fuori, si chiamava Gianluca. Guardavamo tutti un po'... Che me rappresenta sto nome composito, che me vuoi dimostrare? Che poi invece i cognomi erano discutibili. Noi avevamo dei cognomi in classe mia, ancora mi ricordano Abba d'Angeli, Bella Padrona, Santa Nocito, Palamidesse, Spiriti Gliozzi. Che so, cognomi? Queste sono lettere di uno scarabèo buttate a caso così, proprio un farfugliato. Oggi invece i bambini ci tengono a chiamarsi per nome, ci tengono e ci hanno dei nomi importanti oggi i bambini. Oggi i bambini c'hanno dei nomi... Oggi il più stronzo si chiama Alan.